Emozioni contagiose in uno stracolmo Ghirelli a Salerno per lo spettacolo Flashback in the 80 scritto e diretto da Carolina Damiani con le coreografie di Alba Pagano e vocal coach Vincenzo Di Sieno. Non poteva esserci epilogo migliore per la cooperativa sociale Icaro che dopo sette anni affiderà la compagnia teatrale La Girandola e tutte le attività ad esse collegata alla fondazione Anfas. Il teatro per Anfas è sempre stato un elemento fondamentale, un veicolo di inclusione sociale e tra l'altro da un po' di tempo a questa parte abbiamo iniziato un lavoro straordinario facendo un investimento anche su tanti professionisti del teatro sociale e si stanno iniziando a vedere i frutti. Dopo tanti anni la compagnia teatrale La Girandola ritornerà poi da settembre ad essere gestita completamente da Anfas Salerno quindi abbandona la cooperativa Icaro il teatro dopo averla traghettata per sette anni e avendo fatto come dire un salto di qualità comunque importante con dei risultati importanti. Quindi oggi si chiude un ciclo ma ne inizia un altro sicuramente fatto di grandi successi e soddisfazioni. Serata straordinaria abbiamo assistito davvero ad uno spettacolo maestoso veramente nei caratteri ma con un viaggio nel tempo abbiamo vissuto stasera con dovizie di particolari, con eleganza e quindi veramente complimenti per tutto quello che non quest'anno in questi sette anni la cooperativa Icaro ha fatto in un percorso straordinario facendo crescere sempre di più la compagnia La Girandola con professionisti con Carolina che ringrazio che è veramente una professionista straordinaria ma grazie soprattutto a tutte quelle famiglie che in questi anni ci hanno dato grande fiducia affidandoci i propri figli e quindi che sono diventati praticamente degli attori. Grazie.